Non è più faraginoso nel senso magari andare alle ASL e vedere gli orari oppure prendere una tessera e iscriversi all'Aido. No, è estremamente semplice. Al rinnovo o all'atto del rilascio della carta d'identità l'ufficiale Enagrafe verrà a chiedere se vuole esprimere la sua volontà in merito alla donazione. Allora ci saranno tre possibilità. Il cittadino potrà dire no, non mi interessa, speriamo di no. Potrà dire no, sono contrario a questa cosa, speriamo di no. oppure può dire semplicemente perché no, sono favorevole. A quel punto l'ufficiale Enagrafe prenderà atto di questa dichiarazione di volontà, farà firmare il modulo, dopodiché la volontà del cittadino entrerà immediatamente nel sistema informatico trapianti. Quindi noi del centro regionale trapianti H24, fra 100 anni, quando il cittadino verrà a morire, saremo in grado di cercare la sua volontà e quindi farla. E quindi è un momento anche per fare rispettare la propria volontà in merito a quello che è il fine vita, in sostanza. E fare quest'atto bellissimo della donazione che non costa assolutamente nulla, però rende la vita e la salute agli altri. Noi abbiamo subito aderito come Comune di Fano. Io stesso da sindaco ne ho eletto alla prima assemblea nazionale del Lanci. Io ho aderito all'inizio dell'inizio della sanità, una scelta in comune. E ovviamente un sindaco come me, che viene anche da un'esperienza come quella della donazione del sangue, non poteva non essere sensibile. Sono gesti di alto valore e hanno, ripeto, anche un'importanza, significa ridare la possibilità ad un'altra vita di proseguire. Quindi ecco, è un bel momento. Io penso che i cittadini apprezzeranno questa iniziativa e sono altrettanto convinto che avrà anche un'altra adesione.